Levanti di mezzo! Addosso! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Confederazione, tonto! È un gruppo, un'alleanza, tante genti diverse, tutte unite insieme. Già, come dicevo, una tribù. Senti, testa di rapa senza cervello. C'è differenza fra una tribù e una confederazione? E non è mica colpa mia se sei troppo stupido per arrivarci! Chi hai chiamato, testa di rapa? Brutto cane rognoso! Ehi, ehi, è una fazenda fra lui e me! Già, fatti fatti tuoi! Già, fatti fatti fatti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi devo accampare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci sarà un altro modo di entrare. Grazie a tutti. Io non voglio che tu mi fraintendas, quindi te lo ripeto. Vattene dalla mia terra! Sto arrivando! Stammi a sentire, di che cosa hai paura? Paura? Credi che io abbia paura? E' per giunta di una piccola canaglia come te! Ah, tu vuoi diventare un eroe, aiutare i deboli e salvare il mondo. Ma in questo modo andrà incontro soltanto alla morte. Il mondo va avanti, sai? Fallo anche tu. Io non me ne vado, hai capito? Io non me ne andrò mai! Aspetta e vedrai. Io non mi arrendo tanto facilmente. Io non mi arrendo tanto facilmente. Solo un vecchio sarà facile. L'hai detto anche l'ultima volta e ho rimediato un cavallo morto e un occhio nero. Voi chi siete? Mi sa che questi non sono affari tuoi, ragazzino. E' meglio che sparisci o finirà davvero male. No. Noi ti avevamo avvisato! Eccolo là! Ehi! Avvisare le cose! Avvisare le cose! Non ti salverai, guarda! Ah! Faccio! Che ci fate qui? Che cosa volete? Dovresti chiederlo al capo. Tu lavori per il vecchio, vero? È così? Forse adesso canterai. Grazie. Pulisci tutto. Poi io e te parleremo. Oh. 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 Scusa. Non è colpa tua. Questo posto cade a pezzo. È un miracolo che sia ancora in piedi. Comunque, tu chi sei? Mi chiamo Radoanghedon. Già. Beh, non ci provo nemmeno a pronunciarlo. Ora, dimmi perché sei qui. Mi hanno detto di cercare questo simbolo. Ma hai una vaga idea di cosa rappresenta? O di cosa mi stai chiedendo? No. Eppure, eccoti qui. Lo spirito dice che... che io... Questi vostri spiriti perseguitano gli assassini da secoli. Da quando Ezio ha aperto il vaso. Ah, ma tu non sai nemmeno cos'è un assassino, vero? Ma mettiti comodo. Ho una storia da raccontarti. Temo che ci vorrà un bel po' di tempo. Ed ecco perché gli assassini si sono impegnati a sconfiggere i Templari. Perché se loro trionfassero, le visioni del tuo spirito diverrebbero realtà. Allora li fermerai. Oh, so già che ci proverai. Vieni. Devo mostrarti qualcosa. Stai attento. Dicevo sul serio. Questo posto cade davvero a pezzi. Come mai non lo sistemi? Ma a che scopo? E poi non ho i materiali per farlo. Basta comprarli. Guardami. Credi che io possa entrare in un negozio con un borsello colmo a fare spese? Sì. Perché no? Beata ingenuità. Di qua. Beata ingenuità. Non credere che basti entrare qui dentro e vestirsi così per diventare un assassino. No, io non pensavo certo... Non temere. Lo so che hanno un certo fascino. E va bene. Ti addestrerò. Così sapremo se hai le doti per vestire quegli abiti. Grazie. Achille. Andiamo, su. C'è molto da fare. Non sei che feccia. Una nullità. Tu e tutta la tua gente. Vivete nel fango come bestie. Senza sapere cos'è la vera civiltà. Che cosa vogliono i Templari? Ciò che hanno sempre voluto. Il controllo. Vedono un'opportunità nelle colonie. La possibilità di un nuovo inizio lontano dal caos del passato. Per questo aiutano gli inglesi. Qui hanno la possibilità di dimostrare la validità del loro credo. Un popolo al servizio dei principi di ordine e controllo. Ho visto cosa succederebbe se ci riuscissero. Devono morire, è così? Tutti quanti. Anche mio padre. Soprattutto tuo padre. È lui che tira le fila dell'intero piano. Soprattutto tuo padre.